1, 2, 3, 4 Ciao a tutti carissimi bentornati il vostro lollo quest'oggi qui per presentarvi una novità Sì esattamente l'avete già capito forse dal titolo del video e dalla miniatura del video Ragazzi un nuovo progetto, un nuovo inizio Sì il vostro caro lollo che adesso chiameremo mister lollo Perché? Perché inizio l'avventura con Football Manager Un canale dedicato solamente a Football Manager Lo abbiamo qua davanti, guardate la nuova pagina del canale Ragazzi al momento ovviamente non ci sono iscritti Ho appena iniziato, ho fatto un trailer ragazzi Andatelo a vedere immediatamente Mi raccomando per tutti gli appassionati di Football Manager Iscrivetevi perché vivremo questo manageriale Che io amo da tantissimo tempo a 360 gradi Quindi appassionati di Football Manager Lo ripeto Andatevi a iscrivervi, like su questo video Condivisioni perché servono Ovviamente servono per aumentare un pochino la community E iniziare delle bellissime carriere Perché qui non ne faremo solo carriere Faremo anche delle live Quindi carriere parallele, diverse Con squadre più forti, più deboli Insomma andremo anche a vedere nello specifico A 360 gradi il tutto Ovvero Tattiche, allenamenti Consigli Su quanto riguarda i Wonder Kids Quindi le giovani promesse Ma tante altre cose Insomma Qualsiasi Cosa ci Venga in mente Lo faremo su Football Manager Quindi Nuovo canale, nuova apertura Mi raccomando Andate di là Vi aspetto numerosi perché voglio iniziare alla grande Ovviamente Lo dico Questo canale Quello del Lollo Ovviamente non è che muore così Ci saranno anche qui delle novità Però In questo momento Sono molto più focalizzato Su Football Manager Club Ragazzi Così si chiama Football Manager Club Il link è in descrizione Ce l'avete Lo avete anche vicino Tra i canali quelli consigliati da me Mi raccomando Andatevi a iscrivervi Vi aspetto Perché Football Manager Ragazzi Non è solo un gioco È un vero e proprio stile di vita Dai Ci vediamo dall'altra parte Con il vostro Mr. Lollo Alla prossima Ciao ciao